Parli di guardia, non mi risolvo. Sì, poi saremmo traspondiata. Perfetto, un altro applauso. Bene, adesso presento anche... ...una nuova amica. Cosa fai? Quello? Quello? Mi presenti? Un applauso. Un applauso. Perché giusto? Queste serenze servono anche per capire tu cosa fai, tu cosa fai. Ogni persona sempre ci rende una mani. E poi... ...una cosa sta a me che ti senti? No, fa la fe. Non ciò parlare di Giorgio. 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 Fa la fe. E direi che... Dove è la nostra contattina? Da Cicilia? Da Cicilia? Da Cicilia? Da Cicilia? Ok. E ovviamente nel senso... Il nostro mestiere siamo un po' di... di persone. Esatto. E noi. Sì. Ciao. Buonasera. E sono il presidente di Giovanni Psicologi Lombardini. È un'associazione di psicologi che si occupa di promozione e tutela della professione sul territorio. e... Questa sera posteggiamo tutti i semifan Natale. E... Niente. Grazie. 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 Buongiorno. A me è un segreto. Buongiorno. 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 Sì ce la fa. C'è ancora qualche anni. In conclusione. Prego. Buongiorno. Buonasera a tutti. Noi è Calnevale. Siamo a Natale. Niente. Sono stato chiamato qui stasera per spendere due parole. al momento giusto spendere due parole su quattro personaggi che abbiamo qua stasera. E vi raccorderò anche la storia dei cammini di Marte per chi non la conosce. Buona serata e buona continuazione. Noi. Quindi adesso... Vado a tutti. Noi DJ. Faccio. Io sono il DJ della serata. Allora, vi presento qui questa sera con la domenica cantante Caraocchio Milano mi farà compagnia. Prima introdurremo la sfilata che inizierà penso tra un istante. Quindi il tempo di fare una sfilata e poi dopo ci troviamo tutti qua per cantare insieme. Capirete come. Quindi cominciate a scaldare la voce Neubole perché fra poco vi lascerò dei microfoni e voi canterete per me. Io questa sera sono un po' con la voce Rauro. Ci penserete voi, vero Vita? Tu mi aiuterai sicuramente. Lo so già. Quindi adesso apriamo ufficialmente la sfilata. Lascio ancora la parola al nostro... Ok. Allora lui canta. Così almeno capiamo cosa vuol dire Caraocchio Milano. che è una parola giapponesa. Sto scherzando. Del karaoke. Allora lui canta anche bravissimo. Infatti mi ha detto che canzoni metto? Scusa se proprio tu hai cantato per vedere canzoni degli altri. Tu parti maestro? Andiamo. Grazie. Partiamo. Giro stai arrivanti qua. Sì. Stai arrivando qua? Sì. 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 Sì.